Un decennio nero per il settore costruzioni nell'isola. Dal 2008 gli occupati sono diminuiti dal 43,9% pari a 29.000 unità. Sta per scoppiare una bomba sociale. Siamo arrivati alla disperazione la denuncia della consulta provinciale delle costruzioni degli ordini professionali di ingegneri, architetti e geometri che questa mattina hanno convocato un tavolo con l'assessore regionale dell'urbanistica Cristiano Enriu presso la sede di Confindustria a Nord Sardegna. Attualmente il settore nell'isola rappresenta in termini di investimenti l'11,6% del PIL regionale, il 42,8% degli addetti dell'industria e il 6,6% dei lavoratori che operano nell'insieme dei settori economici. Il tavolo è stato l'occasione per presentare un documento firmato dalla consulta delle costruzioni della provincia di Sassari il cui nodo centrale ruota attorno alla legge 8 sul piano casa. Le limitazioni che sono presenti nella legge 8 probabilmente impediscono la facilità di poter fare interventi come per esempio precedentemente col piano casa. L'assessore Enriu dopo aver ascoltato l'analisi e le relative richieste del comparto ha precisato ci sono impianti normativi vecchi di 40 anni, stiamo cercando di portare avanti l'innovazione legislativa, abbiamo mantenuto l'impegno sulla legge urbanistica, l'iter della legge 8 e la leggino di manutenzione si concluderà con il testo unico dell'edilizia. Il cerchio si chiude poi con l'obiettivo di voler dare certezza giuridica. Noi abbiamo fatto una legge coraggiosa, prosegue il titolare dell'urbanistica. La discussione aveva rimandato alcune questioni col patto del limite dei 120 metri cubi. Sono stati il compromesso della discussione in aula per le preoccupazioni poi rivelatesi infondate. Contiamo di dare risposte concrete, promette Enriu, l'attenzione c'è e anche la preoccupazione per gli occupati. Se si sblocca il nodo del piano casa potrebbe essere l'anno della ripresa per il settore nell'isola. Dopo un bienio 2015-2016 devastante per il comparto con la perdita di oltre 1000 posti di lavoro solo nell'ultimo anno.